Buonasera a tutti gli amici della Wunderkammer Artificiale a Roma e benvenuti alla 152esima puntata della serie Gemme musicali a casa. Anche in questo episodio continuiamo con i preludi del grande Claudio de Bessie. Oggi vi andrò ad eseguire il preludio numero 6 tratto dal primo libro del 1910. Il titolo del sesto brano si chiama Dei passi sulla neve. È un brano anche questo incredibile per le armonie e per l'uso del virtuotismo del tocco pianistico. Qui si va dal più che pianissimo al mezzo piano massimo. Vengono sfruttati tutti i colori tenui del tocco pianistico. Un pezzo che ha un ostinato alla mano sinistra che potrebbe anche far pensare a un tipo di ostinato come quello usato da Ravel per l'EGB. Ci sono alcuni modi di scrittura pianistica che possono rimandare a questo pezzo di Bessie come il pezzo del Gasparino de l'EGB. Il brano è pura magia sonora. Si entra veramente in un mondo magico, glaciale, invernale, veramente un pezzo che anche questo di una modernità per quei tempi incredibile. Auguro a tutti un buon ascolto, ci vediamo alla prossima puntata e vi ricordo il mio account di paghe info.marcolomuscio.com per le donazioni in tempo di Covid. Buonasera a tutti. Grazie 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 a tutti.